Dimi una carta da gioco, quella che vuoi tu, libera. Il 3 di quadri. Come l'ha detto, com'è per i quadri, c'è un motivo particolare? No. Ok, se va dentro a qualche parte, giusto, sicuramente. Se ne accordano? Poi ti chiamo a cortesia, mescola il mazzo di carta. Attenzione, adesso ho più sottotitoli che mescoliamo. No, non te la scommi. Mescoliamo. Ok, questo è importante. Sono un po' picchiette, vedo come carta? Non si guarda, non si guarda, non si guarda, non si guarda. Ci vuole tu un altro. Ok, adesso la cosa interessante, perché ti ricordo adesso dentro a quale parte, giusto. Sicuramente sarà dentro, non sappiamo dove, però io voglio fargli più. Io voglio mescolare ancora di più. 3 di quadri, 3, 3, non ha più rispetto alla famiglia, è importantissimo come loro. E, mi dendo tre carte, c'è un po' di quale. E' interessante, no? E' interessante la cosa. Quello, ti chiedo a cortesia, dimmi star quando vuoi tu. Come vuoi tu? Come vuoi tu? Come vuoi tu? Questa. Questa qui? Ok, guarda la tua stessa. Guarda, i cartelli, sempre legato questi quadri. Io forse c'era con i quadri, può essere. Me lo aspetta, guarda, facciamo così. Cambiamo carta, uno che vuoi tu. Libero. Quello che vuoi. Ora farò vedere, non voglio vedere assolutamente. Ok, mettilo dentro tu. Tu conosci tutti i giochi, chiaramente a casa c'era di gioco a qualche parte? Non è so perché pensare, è giusto. Una carta, vediamo, aspetta, non mi dire niente. Qualsiasi cosa ti dico, eh? Rossa, nera. Rossa, rossa. No, non ti prego nemmeno. La più cellula è una che dice. Rossa, nera. Rossa, nera. Nera, giusto? Nera. Aspetta. Quattro di fiori, mi intervista, e c'era questa, scusami, era questa, sei giusto? Sì, 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 ringrazio con tutta l'anima. Ehi, giusto? Come non te l'ha fatta? Ci siamo insani. Ci siamo insani.